Siamo appena atterrati, dopo vi presento la squadra, bene bene, per il mio vlog siamo appena arrivati e giustamente abbiamo speso 50 euro perché qua qualcuno, lui era l'unico, lui era l'unico che aveva detto di lasciarci i bagagli e invece questo qua che si gira vergognato è quello che invece si ha fatto spendere 50 euro, bene, stiamo aspettando come si chiama il nostro baro e vederla a fuori, devo dire, ti devo dire, ti devo dire, così male, non è, quello che ha pagato il doppio per l'appartamento, ci sta, grazie, Siamo arrivati da due minuti e te ne stavo già prendendo, il vino. Alonso 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti